Sì, la primissima ha fatto una bella parata a lui e sono arrivato, sono rispito, ho cercato di aprirla sull'altro palo ed è stato bravo sull'apparata. Un attacco, come abbiamo detto anche altre volte, anche nell'ultima settimana, quando ci eravamo visti, segna sempre, ma questo è un testo che è il tuo posto, però i tuoi compagni d'attacco non riescono ad essere incisili, questo è un dato di fatto? Beh, oggi l'aspetto personale sinceramente lo metto un po' da parte, penso che il gol del 10 Devo non si è servito per la partita, alle occasioni del primo, che abbiamo avuto un po' tutti e che dovevamo sfruttare sicuramente al meglio, perché il primo tempo se c'era una squadra che doveva dare un vantaggio, quello eravamo sicuramente noi, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e l'onore per noi, sì. La mia sensazione è che tu quando vai ad agire d'attaccante esterno però perdi quella brillantezza che quest'anno ha dimostrato la sua porta, ti vedi più da non l'esterno? No, è un discorso che si fa da tanto, perché anche da esterno riesco ad arrivare vicino alla porta, perché comunque il primo Devo ci sono arrivato un paio di volte e dovevo fare sicuramente meglio, magari da punta centrale sono più vicino alla porta, però ripeto, mi metto sempre a disposizione dell'allenatore, cerco di sfruttare ogni occasione che viene, sia dall'esterno che dal centro. Leonardo, si può dire che quella di questa sera è stata una prima figlia dei tanti errori commessi, sia in attacco che anche in difesa? Sì, è chiaro, dobbiamo cercare di limitare gli errori, davanti, in tutti i reparti, è chiaro che il primo tempo, io ripeto, se fossimo andati in vantaggio non c'è niente a dire, dobbiamo essere più bravi a sfruttare quelle occasioni, perché i primi 20 minuti sono stati giocati alla grande, poi gli episodi in queste partite fanno sempre la differenza. Il risultato è chiaro che è pesante Mancuso, ma noi dobbiamo fare un'analisi un po' a 360, ma secondo te in questo ultimo periodo c'è un passo in mano rispetto al Tescara? Ma credo di no, credo che ci sia magari negli episodi che prima eravamo più bravi a sfruttare e ora un po' meno, dobbiamo cercare di migliorare chiaramente nei dettagli della partita, nei momenti della partita, ma ripeto, oggi la partita credo che, soprattutto inizialmente, sia stata giocata la grande, se fossimo andati in battaglio, lo ripeto, ma credo, cioè ci credo, se fossimo andati in battaglio magari non è un po' un po' un po' un po'. Ed è anche recriminato per un rigore che poteva starci nel secondo tempo? Ma sinceramente non mi ricordo, però è chiaro in area di rigore magari ci sono diverse situazioni in cui l'arbitro un po' faschiarano e oggi l'ha fischiata loro, ecco. Ti chiedo un'ultima considerazione, ti chiedo, Leo, se secondo te questo Pescara è un Pescara che può arrestare fino in fondo a me la zona, la Gran Basifica, oppure, insomma, qualche riflessione che bisogna cominciare a farlo? No, io credo che questo Pescara ci possa stare davanti, ora abbiamo questo turno di riposo e ne approfitteremo per migliorare nei dettagli, che magari non sono andati questa sera, ma credo che la squadra abbia dimostrato di avere dei valori importanti, quindi ci prendiamo questo turno di riposo, ci giochiamo al meglio le azioni dei due partiti e poi c'è il giro di Boas. Due partite, poi si chiudono il giorno d'andata, insomma, l'obiettivo è di superare comunque un po' da 30? L'obiettivo è portare a casa tutti i punti che ci sono in palio, abbiamo a disposizione 6 e cercheremo di portarmi a casa 6, poi vedremo in base alle partite cosa succederà.